Allora, un'occasione ghiotta, quella che si prospetta fra pochi giorni, quella di poter mirare dal vivo scenari immortalati in quadri stupendi. Oggi questi luoghi sono visitabili, per cui si può andare, guidati da guide turistiche preparate, con la presenza anche di attori che interpretano i personaggi dell'epoca. Si possono visitare questi luoghi messi in sicurezza, allestiti adeguatamente, si possono visitare anche in maniera autonoma, perché poi ci sono degli allestimenti con delle spiegazioni che aiutano la comprensione e quindi anche fare i giusti parallelismi tra il paesaggio attuale e il paesaggio dei dipinti. Tutto questo attraverso un calendario, anche attraverso un calendario di visite guidate. Come si fa per accedere a questo bel modo di visitare il territorio? Allora, Montefeltro Vedute Rinascimentali è il nostro indirizzo Facebook, oppure telefonando al 333-5274-768, è la nostra segreteria, oppure iscrivendosi a info-montefeltroveduterinascimentali.eu Che cosa si vede nelle vostre guide? Domenica, ad esempio, c'è un'escursione, secondo me, meravigliosa. Siamo nella zona di Villa Grande di Monte Copiolo e a seguire Pennabilli. Il tutto ha una durata di circa due ore e mezzo, tre ore, verso l'una si completa il tutto e si vedono dei paesaggi in mozzafiato e in più si conosce la Gioconda, in carne ed ossa, con l'intervista impossibile a Pacifica Brandani, perché la Gioconda è Pacifica Brandani di Urbino. Ormai è stato dimostrato storicamente, nata e morta a Urbino, amante di Giuliano dei Medici. Lei racconterà la sua storia e questo grande amore per Giuliano dei Medici. Grazie.